Allora siamo al voto disciplina dopo questa partita molto molto interessante perché vi siete dati da fare fino all'ultimo minuto Da chi cominciamo? Per il comportamento? Non c'era l'ora, vai Allora, comportamento? Un bel 8,5 8,5 sono comportati bene? Sì Arrotondiamo dai 8 o 9? 9 dai allora Va bene così perché poi anche per i calcoli si diventa anche Allora da parte vostra invece per il comportamento? Chiudo un 9,5 dai Non si può andare con i mezzi ragazzi 9 dai 9 ok bene bravi ragazzi complimenti